E' una notizia davvero recente, non riguarda eBay ma PayPal, che ha annunciato di accettare in futuro pagamenti in bitcoins. Per quanto riguarda eBay, noi accettiamo i principali metodi di pagamento utilizzati dagli utenti, che ora per la maggior parte passano da PayPal. Al momento non abbiamo dichiarazioni da rilasciare sull'argomento, ma ovviamente la decisione annunciata da PayPal è stata presa dal gruppo eBay, lo confermiamo.